Una tipica manifestazione della bella stagione che sabato 7 e domenica 8 maggio torna nella città degli Acaia con i suoi profumi e con i suoi colori. E Expo Flora mostra mercato ortoflorovivaistica e gastronomica. L'inaugurazione sabato mattina alle 11 con Aperi Flora a cura di Slow Food Fossano. Sabato e domenica nel parco e in Viale Alpi terrabanco l'esposizione ortoflorovivaistica. Mentre domenica nella centrale via Roma ci sarà invece il mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica e Slow Food. A corollario show cooking di pesto al mortaio e lavoratori didattici sull'orto per bambini. Nello stesso fine settimana ci sarà spazio anche per la beneficenza. Sabato 7 maggio a partire dalle 18.30 a Largo degli Eroi ci sarà una serata benefica a favore dell'Ucraina in cui verranno proposte penne al sugo più dolce all'offerta minima di 5 euro. L'incasso sarà devoluto alla Caritas per l'accoglienza delle famiglie ucraine sul territorio di Fossano. Una manifestazione che fa da prologo a un'estate fossanese che sarà sicuramente di nuovo importante ma Expo Flora è importante in questo momento proprio per garantire a un comparto in difficoltà per diversi motivi l'attenzione del pubblico proprio perché è una manifestazione che può portare a Fossano tanti visitatori la TL non può che fare la propria parte e quindi sostenere attraverso un'opera di comunicazione la diffusione della notizia di questa manifestazione. Davvero le uniche esplosioni che vorremmo vedere in questo periodo sono quelle dei colori, dei fiori che riempiranno via Roma qui a Fossano. Speriamo che tanti visitatori vengano in questa bellissima città e che insieme alla manifestazione colgano l'occasione per visitare i negozi, andare nei ristoranti, visitare il bellissimo castello che ricordo è aperto per tutta la durata della manifestazione e che offre ancora l'opportunità di una bellissima mostra nella sala delle grottesche e quindi vi aspettiamo a Fossano.